Una firma importante tra l'Assam, che è l'organo tecnico della regione sull'agricoltura, Slow Food, regione Marche, tre ruoli proprio per una visione sempre più integrata dei valori straordinari che arrivano attraverso la biodiversità, la qualità del cibo e tutte quelle iniziative che Slow Food nel tempo è riuscita a fare e ha costruito una grande cultura sull'attenzione a quello che mangiamo. L'Assam che rappresenta un organo tecnico prezioso perché è proprio quello capace anche di garantire e certificare la qualità dei nostri prodotti, regione Marche che trova in questo un valore aggiunto nelle proprie politiche, in tutto quello che può essere convogliato all'interno di questo percorso e che viene riconosciuta proprio come regione che prima di altre ha dato attenzione a biodiversità, che prima di altre ha parlato di cibo biologico, che è leader a livello nazionale da questo punto di vista ed è riconosciuta anche a livello internazionale tanto diventare punto di riferimento per le delegazioni che vengono nelle Marche a ragionare di questo. Quindi un valore forte che parla di qualità della vita, della longevità proverbiale dei marchigiani, ma anche di tante opportunità per i giovani in un'economia che avendo scelto i caratteri giusti crea lavoro e crea occupazione.